Furto a Sapri in via Granozio dove i gnoti si sono introdotti in un appartamento della centralissima strada cittadina nella notte tra sabato e domenica. I malviventi hanno avuto la strada spianata per entrare nell'appartamento in cui abita una famiglia composta da quattro persone in quanto dopo essere saliti tramite una tubatura esterna del gas hanno trovato il balcone di casa aperto, complice il caldo di questi giorni. Una volta dentro i ladri hanno portato via qualche oggetto di valore e denaro contante che pare si aggiri intorno ai 5.000 euro frutto dell'incasso dell'attività di famiglia la quale mentre i malviventi gironzolavano nell'appartamento stava dormendo. A svegliarli il cane che ha iniziato ad abbaiare facendo insospettire i padroni di casa che una volta accortisi del furto hanno allertato i carabinieri della locale stazione ancora sulle tracce dei malviventi. Non si esclude che le stesse persone che si sono introdotte nell'appartamento di via Granozio siano le stesse che alcuni giorni fa hanno tentato un altro colpo in una villetta di via Gaetani dove però dopo aver messo a soccuadro alcune stanze non hanno portato via nulla.